Ringraziamo Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza Pescarese Doc. Non è la prima volta che Antonelli trova di fronte la squadra della sua città. Partiamo dal risultato giusto questo 1-1. Sì, tutto sommato il risultato giusto per come si è sviluppata la partita. Poi sicuramente se il Monza in qualche occasione poteva raddoppiare, avesse raddoppiato, probabilmente parlavamo di un risultato diverso. Chiaro che poi è stato bravo il Pescara a portarla sul pareggio e poi magari poteva anche vincerla. Sul 1-0 c'è stata quell'occasione clamorosa di Armellino. Fosse arrivato il gol del 2-0 probabilmente il Monza avrebbe portato a casa la vittoria. Invece poi c'è stata la reazione del Pescara e il pareggio di Seter su errore, su sfortunato di Pirola tra l'altro. Sì, ha fatto una grande partita Pirola, mi dispiace per l'errore che ha commesso, però capita e è stato bravo il Pescara a sfruttare l'occasione che gli abbiamo concesso. A proposito di Pirola, Antonelli mi corregga se sbaglio, il giocatore è stato molto vicino al passaggio al Pescara durante il mercato di quest'inverno. Poi credo l'infortunio di Paletta ha fatto sì che il Monza decidesse di togliere dal mercato Pirola. C'è stata comunque una trattativa vicina alla conclusione per il passaggio di Pirola al Pescara? Sì, sicuramente il direttore sportivo e il presidente avevano chiesto informazioni. Noi abbiamo buoni rapporti con il Pescara, quindi si era parlato ma poi le cose non si è fatte. A proposito di Pescara, e poi una domanda di Andrea Costantini da studio, 4 punti su 6 per il Pescara in questa stagione con il Monza, non mi porta benissimo la squadra bianca-azzurra? No, assolutamente, mi ricordo ancora la sconfitta dell'andata e da pescarese se proprio devo è meglio loro che altri. Direttore c'è una domanda da Andrea Costantini e poi andremo a chiudere, ovviamente la ringrazio già da ora per la disponibilità. Andrea? Ci sono molti incroci tra Pescara e Pescara. Pescara e Monza, il primo quello di Macino, giocatore che è in prestito al Pescara, giocatore che ha avuto qualche problema a Monza. Poi Bettella, difensore che nel Pescara è diventato giocatore, che all'andata aveva segnato due gol ma che oggi era in panchina. E poi Rigoni che a Pescara ha dei problemi fisici, a Monza non aveva praticamente mai giocato. Partiamo da Macin. Macino l'ho visto meglio, lui sa di essere un giocatore bravo, deve però pensare non singolarmente ma pensare da squadra. Se lui si mette a disposizione dei suoi compagni sono sicuro che darà il suo contributo per la salvezza del Pescara. Anche quando era qua io continuavo a battere il chiodo su questo. È un ragazzo che ha bisogno di fiducia ma ho visto che ha ritrovato un gran gol con il Pisa, ho visto che ha fatto una buona gara oggi. Mi fa ben sperare per il finale. Bettella e Rigoni? Bettella ha fatto un ottimo periodo con noi, poi all'inizio in realtà ha avuto un piccolo infortunio, poi ha fatto un ottimo periodo con noi, poi alla ripresa nel girone di ritorno è andato un po' in flessione, è cresciuto Pirola e in questo momento sta giocando lui. E Rigoni? Rigoni mi auguro che anche lui possa dare il suo contributo, è un ragazzo che ha un curriculum importante, ha giocato in serie a tante partite e sicuramente quando giochi poco nella prima metà di campionato dopo ti porti sempre qualche infortunio dietro. Direttore per chiudere due domande flash, la prima Antonelli era direttore sportivo del Monza prima dell'arrivo della famiglia Berlusconi, oggi ancora a Monza, credo un attestato di stima da parte della società e poi la seconda domanda, la panchina di Brocchi è a rischio dopo questo pareggio con il Pescara? La prima domanda, sì, questo è il sesto anno che sono qua, è un percorso per me, una grande palestra, una grande scuola, quindi andiamo avanti ma viviamo il presente. Quanto riguarda Brocchi... Non risponda con diplomazia? No, no, l'ho appena detto, Brocchi anche lui è confermato, andiamo avanti con lui, la proprietà crede molto in quest'allenatore, a meno che di stramolgimenti andiamo avanti con lui. Il futuro di Antonelli un domani potrebbe avvicinarsi a quello del Pescara, potrebbe accadere? Nel calcio può sempre succedere di tutto, chiaro che a me Pescara mi sta a cuore, faccio il tifo e in ogni caso ho la mia famiglia lì, quindi va bene così. Ce la può fare il Pescara? Ce la deve fare.